Si può denunciare andando incappucciati con una voce completamente camuffata facendo e non presentando nessun tipo di accuse avendo dei fogli con cui tu puoi parlare sapete come si chiama nel gergo calcistico delle curve? Se voi le avete mai frequentate, si chiamano infami ma semplicemente così si chiamano perché questo, cioè moralmente, voi ditemi moralmente Però se si fosse esposto chiaramente non avrebbe più arbitrato Allora questo signore che io non conosco, io sono Rocchi, non lo conosco, non so chi è devo designarlo per una partita, probabilmente va a arbitrare Che cosa fa? Moralmente, il problema è questo non avendo individuato quello, lo devo designare se un abito è un'attività E quindi cosa succede? Cioè sono sicuro che la sua moralità sia al di sopra di ogni sospetto sono sicuro che lui non favorisca una squadra o mi combini